Benvenuti in un nuovissimo video ragazzi, oggi sarò un soldato, allora come prima cosa dovremo costruire un riparo Per caso ho fatto riparo, non mi ricordo, vabbè, aspetta, soldato, riparo, o e o, però soldato lì c'è la t, quindi Soldato, to, e, vabbè ragazzi, come prima cosa dobbiamo costruire un riparo, ok, ci vediamo dopo Scriviamo la casa Questa è la mia casa Vi ricordate il video in cui ero tornato, che non facevo video da tanto tempo, la casa di youtube Beh, se guardessi il video capirete perché devo costruirmi una casa Va bene, questo non si serve più Ho il potere del cheat, quindi posso tangere da le cose Allora Eh, cosa è successo? Cioè, ho spattuto un pacchettino la testa Eh, è uscito Cosa è uscito? Eh, ah giusto Sono un melone, quindi è uscito succo di melone Avevamo appena pulito la mia casa Vabbè Apriamo la porta Aia, 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 che male Che male Ci vediamo dopo Mi butto Che male da testa Che male Ormai che è quello è il mio clone Sì Io Ho creato il mio clone in caso Aspetta Clone Clone È andato Vabbè Non ci serve più No Prendi Queste Questi Non ci sono i mobili Allora Entriamo in casa Ok Stiamo Forse al sicuro Dai nemici I nemici Adesso io mi addormento Se vedete dei nemici Ditemelo Beh, i nemici comunque sono delle mele Sì I meloni odiano le mele Ecco perché Io Quando vedo una mela La rompo perché non mi piace Beh Sì A me piacciono le mele da mangiare Però Le mele Umane Non mi piacciono Quindi Userò questo come porta Vabbè Teniamolo così Ci vediamo dopo Non potrete mai capire di quello che è successo E' successo un casino Totale So sporco Di So sporco di Cos Cesso C'è Qua ho sbattuto la testa Poi so spenuto E mi sono ritrovato questo tosse Ma Spappere la testa Non credo che mi faccia Sporcare tutto di Succo di melone Beh Io sto ancora bene Non ho sbattuto forte la testa Dovevo trovare un pezzo di ferro Per chiudere la Porta Ciao ragazzi Io sono Apple Non il telefono Apple Ma mi chiamo Apple Perché In italiano vuol dire Mela Quindi Sono una mela E adesso sono io Il capo di questo canale E se Rivolete William indietro Iscrivetevi E lasciate like E magari anche qualche commento Io vi risponderò Però Adesso Comando io E nel prossimo video Ci sarò io E non William Perché è svenuto E non perché Voleva prendere un pezzo di ferro Qualche ore È la sua porta Ma perché Io Io ho fatto sbattere la testa Pamma Quindi Io Adesso Ho William E voi Per riperarlo Dovrete arrivare Almeno A 10 like In questo video Adesso Ciao Ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao